In questo mondo non c'è più spazio per operai generici? No, oggi praticamente nelle aziende viene richiesto un'alta formazione e si comincia già dalle superiori a puntare sui talenti, quindi c'è la ricerca proprio del talento. A caccia di giovani talenti da formare perché possano sviluppare tutte le loro capacità. Questo è l'obiettivo della prima fiera dell'orientamento che si è aperta questa mattina al Palazzetto dello Sport di Maser. Due giorni dedicati alle famiglie ma soprattutto ai ragazzi affinché capiscano quale sia il loro futuro professionale. Ma quanto importante è l'orientamento per i giovani d'oggi? Allora l'orientamento è sicuramente importantissimo per i ragazzi che si trovano così giovani a fare una scelta. Una scelta poi per quello che sarà il loro lavoro futuro. Un lavoro che sicuramente ci si aspetta che sia un lavoro di successo, che sia un lavoro appassionante e soprattutto che dia loro la possibilità di realizzarsi pienamente per le loro competenze e le loro abilità. Tecnologia e manualità al servizio dei talenti in un percorso per le nuove leve professionali ma anche per le imprese sempre più alla ricerca di figure aziendali formate o da formare. Un'esigenza dei territori che le amministrazioni della Solano hanno concretizzato in queste due giorni dove non è mancata la presenza delle organizzazioni imprenditoriali. Perché bisogna cercare di creare questo collegamento, questo ponte tra questi due mondi il mondo della formazione della scuola e il mondo dell'impresa e dell'imprenditoria. Coinvolgendo appunto anche le scuole attivamente in questo evento si cerca appunto di fare in modo che magari anche i programmi educativi si adattino alle esigenze effettive del territorio. Quindi la sinergia tra mondo del lavoro e centro di formazione è fondamentale per dare delle risposte in questo momento mancano? Sì, sicuramente la risposta più importante è quella di preparare del personale qualificato altamente specializzato con delle competenze trasversali notevoli che permettono proprio ai ragazzi di entrare presto nel mercato del lavoro di essere competitivi e soprattutto di rispondere alle esigenze e alle necessità delle aziende.